E' passato un po' di tempo da quando abbiamo visto filmati di gameplay dedicati all'imminente sparatutto di EA, Anthom, ma a quanto pare, la situazione potrebbe cambiare già dalla prossima settimana.In una recente serie di tweet, il lead producer del gioco, Michael Gamble, ha dichiarato che sta pianificando un live stream insieme a Ben Irving.com segnala Dual Showcase, mentre Gamble ha detto che si aspettava il live stream ad Halloween originariamente, ora ha affermato che probabilmente andrà in onda giovedì prossimo. 1 novembre.Gamble ha continuato dicendo che nel corso dello streaming si creerà un personaggio casuale e ci si tufferà nel mondo di gioco.Actualita Euro TMS November 1st. So that Ben can wear his giant Transformers costume without worrying about his camera face. HTTPS-T.co-2WFKDM di TTJ, Michael Gamble chioccio la Gamble Mike October 22, 2018 Per quanto riguarda gli orari ufficiali e le date in cui questo streaming potrebbe aver luogo, Gamble ha detto che rivelerà tutte queste informazioni nei prossimi giorni.Antomain arrivo il prossimo 22 febbraio. Grazie a tutti.